Vorrei anche dire grazie per tutto il progetto della prima delle prime, tutta questa seria che Anna e l'associazione amici hanno fatto per sostenere ogni spettacolo e tutte queste queste conferenze ci consente a scoprire anche il titolo e anche il progetto specifico per ogni spettacolo. Quindi a voi tutti ovviamente grazie per il sostegno che avete sempre dimostrato per il nostro grado e direi particolarmente grazie a Anna per l'annunione e per tutto che lei sta facendo come sempre Grazie mille Grazie 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 Grazie